L'Aula ha approvato il rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022. A favore della proposta di delibera ha votato la maggioranza, mentre il gruppo della Lega ha votato contro e Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle si sono astenuti. Un rendiconto, dice Andrea Pieroni del PD, che mette in evidenza come i conti siano in regola. Quindi questo significa anche una capacità di tenere sotto controllo la spesa, non c'è aumento di costi, non c'è aumento del costo della politica, anche dal punto di vista del consuntivo possiamo segnalare delle capacità di risparmio sulla spesa di gestione. Ad esempio, una per tutte, cito il risparmio di 300 mila euro sulle utenze. In tempi in cui il costo delle utenze è esploso, aver risparmiato 300 mila euro è sicuramente un segno di attenzione particolare. C'è un avanzo di amministrazione di 1 milione e 700 mila euro che potrà essere nuovamente utilizzato dal Consiglio a breve in quanto le risorse potranno essere riutilizzate in questo esercizio finanziario. Da una parte un avanzo di amministrazione è importante per consentire di continuare a finanziare iniziative legislative come uffici di presidenza, se penso alle iniziative rivolte ai giovani, penso alle associazioni, penso al mondo della cultura, dello sport. Quest'anno ci finanzieremo un progetto sull'identità culturale dei giovani toscani. Il prossimo anno potremo avere altre risorse da destinare rispetto a queste iniziative sull'identità toscana. Nel contempo, grazie all'atto approvato dal Consiglio regionale, vengono messe da parte delle risorse per sostenere e aiutare le popolazioni del Mugello che sono state colpite dalla forte alluvione. Approvato all'unanimità, invece, un ordine del giorno collegato all'atto presentato dalla consigliera Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani che impegna l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ad attivarsi affinché almeno una parte della quota disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 sia destinato all'erogazione di contributi volti al superamento dell'emergenza in corso nei comuni dell'Alto Mugello. Sono, direi, soddisfatta perché oggi è stato dato un segnale importante da parte dell'Aula, proprio in serie di approvazione del rendiconto del Consiglio. Noi avevamo un avanzo importante, cioè cosa significa? Avevamo delle risorse libere che non erano state impiegate e che possono essere impiegate a discrezione dell'organo consigliare. Alessandro Capecchi, di Fratelli d'Italia, ha messo in evidenza alcune questioni negative tra cui il fatto che quest'anno sono disponibili in cassa 250.000 euro in meno rispetto allo scorso anno. Soprattutto ha criticato il fatto che il rendiconto del Consiglio contenuto in quello generale sia già stato inviato dalla Giunta alla Corte dei Conti. Da una parte avanza 1.700.000 euro ma diminuisce quanto abbiamo in cassa per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio che risente ancora di un ritardo negli investimenti soprattutto per le infrastrutture tecnologiche e telematiche a supporto del lavoro dei consiglieri. Ma soprattutto ancora una volta la Giunta ha approvato il rendiconto generale della Regione che comprende anche il rendiconto del Consiglio regionale che stamattina dovevamo votare prima del voto di stamani. Come al solito quindi il Consiglio non può entrare nel merito ma viene di fatto relegato a un ruolo di subordine. Massimiliano Baldini della Lega ha invece sottolineato come l'avanzo non sia un risparmio. Sono avanzi strutturali che si ripetono dal 2014 in avanti e che anche se sono diminuiti continuano ad essere avanzi importanti che testimoniano una cattiva programmazione. Quindi noi abbiamo sollecitato questo elemento per far sì che in realtà le risorse siano ben individuate per quelle che sono le esigenze del Consiglio regionale ben individuate dai dirigenti e dagli uffici dei settori differenti per far sì che siano spese nel almeno 95% di quella che è la loro portata. Perché? Perché questo continuo ricorso alle variazioni di bilancio non è a nostro avviso comprensibile. È bene che le risorse siano spese e che non ci siano situazioni di avanzo che poi portano a decisioni ulteriori che non sempre condividiamo. Il rendiconto ha sempre una grave lacuna quello di mancare di dare risorse ai partiti dell'opposizione perché possano finanziare delle loro proposte di legge. In questa regione le proposte di legge passano o se sono gradite alla maggioranza o se le presenta la maggioranza stessa. E questo è un modo per tarpare le ali non soltanto all'opposizione ma alla democrazia perché anche gli eletti della minoranza e dell'opposizione hanno una loro rappresentanza e hanno un loro diritto a non vedere le loro leggi carta a straccia oppure a non essere nemmeno presentate. A Montelupo Fiorentino è tutto pronto per Ceramica un viaggio nella produzione della ceramica della città tra storia, tradizione e contemporaneità. Torna dal 16 al 18 giugno in uno dei distretti più importanti d'Italia l'edizione 2023 del Festival con le esposizioni, la mostra a mercato, i cantieri di arte contemporanea, laboratori e workshop, spettacoli e concerti. Non mancheranno laboratori per i più piccoli e visite guidate. Montelupo Fiorentino nel prossimo weekend sarà la capitale toscana, la capitale italiana della ceramica. È bello sapere che si può ripartire, questo è un motivo davvero di ripartenza dopo il difficile periodo della pandemia, dopo le difficoltà che i tanti produttori hanno avuto e stanno avendo anche per il caro Energia. Ceramica è arte, ceramica è cultura, ceramica è il racconto di un territorio che lotta, che rialza la testa e che con le sue capacità, con la sua manualità, con la sua artigianalità offre prodotti che ci invidiano in tutto il mondo. Allora che siano tre giorni belli, tre giorni di ripartenza, tre giorni su cui costruire un futuro migliore per quel territorio. Il consigliere regionale Enrico Sostegni ha sottolineato come la tre giorni richiamerà i ceramisti più importanti da tutto il paese e anche dall'estero. Sì, la festa della ceramica, che ora si chiama ceramica, proprio perché la ceramica è ridiventata il nucleo vero fondamentale di questa manifestazione. Una tre giorni richiamerà i ceramisti più importanti da tutta Italia e non solo, anche dall'estero. Un'occasione importante per rifare il focus su quanto sia radicata storicamente questa tradizione a Montelupo e nella nostra regione e come ancora oggi sia importante legata al tema del design, dell'arte. E quindi Montelupo in questi tre giorni con il 2023 ritorna al periodo pre-covid. Torniamo alla manifestazione del ceramica come avevamo conosciuta prima e soprattutto è una grande occasione per conoscere il mondo della ceramica, delle tradizioni toscane, il mondo dell'arte e del design internazionale. Il filo conduttore dell'edizione 2023 è la macchina del tempo per una manifestazione che vuole raccontare la ceramica, non solo quella tradizionale ma soprattutto quella contemporanea come evidenziato il sindaco di Montelupo Paolo Masetti, il quale ha anche ricordato tre ricorrenze importanti di questo anno. Una manifestazione per noi molto importante quest'anno peraltro che ha delle ricorrenze importanti. Sono 50 anni che è stato scoperto il pozzo dei lavatori, quello da cui è partita la narrazione, nella nostra storia, da cui si è ridisegnata la storia della ceramica montelupina, 40 anni dal primo nucleo del museo della ceramica di Montelupo al Palazzo Podestarile e 30 anni dalla prima manifestazione, la prima festa della ceramica. Quindi sono tre ricorrenze che ben si adattano anche al nome che abbiamo dato al sottotitolo per così dire alla manifestazione La macchina del tempo. È una manifestazione importante dal punto di vista culturale che vuole raccontare la ceramica non solo quella artistica, quella tradizionale, ma soprattutto la ceramica contemporanea. Il bello di Montelupo è che coniughiamo storia, cultura e innovazione. Quindi la mostra mercato, per esempio, che sarà uno degli elementi di punta di questa edizione della festa della ceramica serve proprio a questo, cioè a ricordare che Montelupo si situa all'incrocio fra una lunga storia e però una produzione ancora viva e molto vivace, appunto. Il festival, che è alla firma della direzione artistica della Fondazione Museo Montelupo, torna nel suo format pre-pandemia, come ha sottolineato la direttrice della Fondazione, Benedetta Falteri. Sì, Montelupo torna a festeggiare il suo Festival della ceramica dopo due anni di stop, dovuti ovviamente alla pandemia. Torniamo al format originale del Festival della ceramica di Montelupo, torniamo con molti artisti ospiti, con una bella mostra mercato dell'artigianato nazionale e internazionale, con dei workshop e dei cantieri d'arte, quindi anche con una componente esperienziale importante sulla ceramica contemporanea e con il tradizionale programma di spettacoli e laboratori per ragazzi. Il ricco programma, oltre a mostra e installazioni nei nuovi espositivi e di produzione della città e negli spazi urbani, prevede residenze artistiche e scambi internazionali, tra cui i Cantieri di Montelupo, iniziativa che sarà presentata sabato 17 giugno. Io curo i Cantieri di Montelupo, che sono questo progetto di residenze artistiche arrivato alla terza edizione quest'anno. Lo presenteremo ufficialmente con un talk il 17 giugno e sempre sabato 17 e domenica 18 ci sarà il primo workshop che inaugura la prima residenza di Maria Palmieri. Gli artisti di quest'anno si occupano di fotografia nel caso di Maria Palmieri, arte relazionale e installazione nel caso di Rocks in the Box e pittura nel caso di Scarabello. Tutto il progetto è giocato sul rapporto tra modalità sperimentali legate all'arte contemporanea e la ceramica e quindi la relazione attiva tra artisti visivi e artigiani. La street art colora l'ingresso su Viale Morgagni della scuola media Agnolo Poliziano di Firenze dove venerdì 9 giugno sono state inaugurate le opere degli artisti Moneless e Mutz. Investire in arte, investire in cultura, investire in questa bellezza vuol dire investire in libertà e oggi nell'ultimo giorno di scuola la scuola Poliziano abbiamo deciso di inaugurare questa opera d'arte bellissima che è un regalo che facciamo alle studentesse, agli studenti dell'Istituto Poliziano ma anche a tutti i cittadini di Firenze. Penso che la scelta portata avanti con impegno di investire nella street art sia un messaggio potentissimo che mandiamo a tutte le cittadine e tutti i cittadini della Toscana. Oggi a Firenze, nelle prossime settimane a Lucca, a Pisa siamo partiti dall'idea di Kittering che cambiò il modo di fare pittura di strada e oggi siamo qui per raccontare quanta bellezza si può costruire in una delle terre più belle al mondo piena di arte, di storia e di cultura. Insomma, avanti così con l'attenzione alle ragazze, ai ragazzi più giovani e alle forme d'arte più innovative. Si tratta del primo dei tre interventi di rigenerazione urbana finanziati direttamente dal Consiglio regionale ai sensi della legge 3 2022 per iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni nell'ambito della valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l'arte di strada. Sì, è una bella sinergia, una bella storia da raccontare, da vedere, da apprezzare la street art di casa nella città di Firenze ormai da qualche anno con bellissimi interventi che hanno davvero, hai detto bene, rigenerato anche i luoghi in cui sono stati fatti. Questa sinergia con il Consiglio regionale che abbraccia la città di Firenze, la città di Lucca, la città di Pisa dà a questo movimento un respiro territoriale più ampio, un respiro appunto regionale e questo aumenta ulteriormente il significato di questo tipo di interventi che sono un qualcosa di bello, sono un qualcosa che a me personalmente piacciono moltissimo e che sono un segno, sono un segno di arte libera, pubblica, gratuita a disposizione di tutti coloro che hanno lo spirito e l'animo per apprezzarla e quindi oggi sì, è una giornata di festa, è una bella giornata e anche l'ultimo giorno di scuola quindi la festa è doppia. È una bellissima iniziativa che continua a costruire un racconto della città attraverso il murale, tra l'altro un bellissimo murale fatto qui alla scuola grazie agli artisti, grazie alla Regione Toscana che ha messo in campo questa iniziativa in particolar modo con il Presidente Mazzeo e il Consigliere Vannucci che erano qui presenti. Noi l'abbiamo sempre detto e ci teniamo a sottolinearlo. La street art è una forma d'arte straordinaria che comunica tantissimo. Farlo all'interno delle scuole, farlo in dialogo con i nostri studenti è il modo migliore per cercare di non solo far conoscere questa forma d'arte ma anche per mandare messaggi estremamente importanti attraverso quelle che sono delle vere opere d'arte. Muzze ha realizzato un murale sulle barriere antirumore della scuola e sul cancello Moneyless sul frontone. L'idea alla base del lavoro come ha spiegato Muzze è stata quella di dare una forma inedita all'entrata dell'istituto prendendo come spunto i particolari architettonici di tre porte fiorentine. Niente, l'idea alla base è stata quella essendo appunto un'entrata di diciamo ricreare un'inedita porta sostanzialmente di Firenze e infatti l'idea è stata quella di riprendere dei particolari di tre porte fiorentine porta San Gallo porta San Nicolò e porta La Croce per dare una nuova estetica comunque all'entrata a maggior ragione di una scuola e quindi il fatto di accentuare se si vuole anche appunto la soglia all'entrata ma creare anche un collegamento fra appunto l'interno e la parte fuori e la parte esterna. Grazie a tutti.